familiare che fa sempre il figo, allora voi anticipate tutti, vi mettete nei posti più dominanti se questo è un tavolo lungo e gli altri avranno delle postazioni minori e quindi si sentiranno sbassati un po' psicologicamente che tutto a livello indiretto psicologico. Ciao da Alex Sonofri, in questo video vi insegnerò ad essere molto più dominanti quando state a tavola e anche se può sembrare una cosa strana essere dominanti mentre state a tavola, cioè qualcuno potrebbe chiedersi che significa questa cosa Alex, beh in realtà pensateci quasi con ogni persona importante o interessante della vostra vita prima o poi vi sedete a tavola e ci sono dei modi un po' nascosti e subliminali psicologici per risultare automaticamente più dominanti, più diciamo così sicuri di sé, più in un certo senso carismatici e importanti anche soltanto prendendo posizione a tavola ed oggi in questo video adesso ti do, vi darò quindi un modo per utilizzare questa tecnica quindi per essere sempre più efficaci nella vita e quindi più strong. Iniziamo subito, allora praticamente in questo video vi parlo del posizionamento a tavola rispetto all'ambiente circostante e vi spiego subito che significa. Allora mettiamo sempre con la nostra grafica che questa sia la stanza perché di solito vi mettete a tavola e questa tavola sta all'interno di una stanza, ok? Quindi questa cosa non vale se mettete questo tavolo in spiaggia o in una piazza deserta, ecco. Allora mettiamo che qui ci sia l'entrata, quindi la porta d'ingresso e qui ci sia un tavolo. mettiamo fosse, cioè mettiamo, cioè se questo fosse un ufficio, allora questa qua è diciamo così, questo è il tavolo, la scrivania e questo qua è l'ufficio. Allora mettiamo che voi siete, non lo so, il proprietario di questo ufficio e volete ad esempio, non so, selezionare delle persone. Questo è solo un esempio per farvi capire i vari aspetti. Allora dove metterete la vostra sedia? Cioè dove vi posizionerete? Allora voi dovrete posizionarvi qui oppure qui. Perché questa cosa? Perché praticamente voi se vi posizionate qui, quindi i piedi stanno qua avanti o qua avanti, avete tutte le spalle coperte, primo punto, quindi avere le spalle coperte, questo vi fa sembrare più dominanti e poi adesso vi dico anche altre cose. Secondo elemento è forse più importante, più importante controllate tutto l'ambiente, no? Guardando qua, perché gli occhi fino a prova contraria li avete di fronte e quindi controllate la via di fuga e di accesso, cosa molto importante perché queste cose sono subliminali, sono ancestrali, dipendono dalla nostra evoluzione, anche se razionalmente sono stupide, che non è che uno deve controllare se entra qualcuno ad ucciderti con un'accetta o roba simile, no? Però sono cose psicologiche, siamo fatti così a livello subliminale. Quindi da qui e da qui si può controllare grossomodo tutta la stanza e quindi soprattutto la via di fuga. Se voi invece mettete la sedia qua o qua, in parte vedete, cioè gli occhi, a meno che non girate la testa, se non avete gli occhi strani, guardano qui. Oppure se voi state qua e quindi rivolti verso il tavolo, controllate soltanto qua, ok? E quindi avete le spalle scoperte. Ricordate, primo punto, spalle coperte, no? Cioè che dietro non avete qualcuno che potrebbe uccidervi, adesso ve la metto in modo metaforico e anche qua, qua e qua, quindi qua va bene e qua va bene, qua va malissimo e qua va mezzo bene perché voi guardate così e quindi potrebbe arrivare qualcuno da qua, che ovviamente è tutto psicologico, è tutto subliminale. Allora, perché questa cosa funziona? Perché se voi vi posizionate qui, adesso ho incassinato il disegno, o qui, quando entrerà qualcuno che si metterà qui, magari perché voi avrete posizionato strategicamente la sedia qua e questi sono giochetti che fanno molto quando selezionano il personale, eccetera, poi ti dico anche come utilizzarle queste cose, quindi cosa avviene? Che tu, se stai qui o qui, mettiamo qui, che è il posto migliore, hai le spalle coperte e controlli le vie di fuga e tutta la stanza. Una persona che entra e si mette qua perché tu avrai messo la sedia qui, oppure avranno messo la sedia qui se tu entrerai e qua ci sarà un capo ufficio, un selezionatore del personale o un professore o altra roba, chi si mette qua praticamente ha alle spalle zero controllo, è una via potenziale di entrata che non può controllare e poi non controlla tutta questa zona della stanza. Quindi psicologicamente, sta roba non scrive mai, non so chi le fa, le faranno i cinesi, non lo so, praticamente chi più controlla la stanza e le vie di fuga, quindi controlli con la vista ovviamente, più controlli la maggior parte della stanza e le vie di fuga e più appari dominante, più appari praticamente alfa e la persona che il rapporto con l'altra persona o le altre persone sedute ha potere e ha, diciamo così, status sociale. Queste cose sono percepite automaticamente, poi possiamo stare a parlare dei perché a livello evolutivo, antropologico, eccetera, sociale, ma lasciamo perdere, poi se volete nei commenti mi chiedete altre cose. Allora, altro elemento fondamentale, che non è finita qui, quali sono le eccezioni? Allora, vediamo se si vede, sì, eccezioni, ci sono tantissime eccezioni, ovviamente questa qui è soltanto una dritta, così rapida e sarebbe tanto altro da dire, le eccezioni sono, allora, le persone alfa, i capi, i selezionatori, i professori, i proprietari dell'ufficio, quando è entrato in una banca, eccetera, si mettono sempre in posizioni dominanti perché se sono dominanti allora tendono a mettersi in quelle posizioni, quindi voi potete capire il livello di dominanza di una persona in base a dove si siede. Allora, mettiamo che, e questo è importante per capire anche chi comanda, a chi chiedere proprio informazioni, oppure se dovete selezionare qualcuno e metterlo magari un po' in difensiva per vedere se regge psicologicamente, che può essere anche un partner, una roba simile, per vedere se regge psicologicamente alla pressione, quindi se ha valore, se è strong, eccetera, eccetera, potete fare questo giochetto. Allora, alcune persone dominanti invece, ma parlo di cose tipo i mafiosi, il padrino, le persone molto misteriose, tipo delle sette segrete, insomma, una cosa che serve di meno però, se no magari mi dite, ah, c'è questa eccezione che non hai valutato, no, vabbè. Allora, se potrebbero mettere qua, in modo che quando tu entri vedi le spalle e loro vedi in penombra con questa testa rapata, eccetera, e dici, ma, eh, è capito, ti senti che non sai bene che sta succedendo, dice, ma qui non mi riceve nessuno, cioè ti dà un senso di smarrimento, un senso, cioè adesso parlo a livello psicologico, è un senso di non accettazione, perché è sempre una forma di potere e questo mostra anche, però ti parlo una cosa proprio eccezionale, che te la dico giusto per, per, diciamo, informazioni, per curiosità, quindi questo è rivolto qua e potrebbe dare un senso di superiorità a questo punto di vista, ma io non ho, non mi interesso di chi entra o chi non entra, di chi mi potrebbe attaccare alle spalle, sempre a livello subliminale psicologico, perché io sono potente, io sono qui, io sono qua, io sono Dio in terra e quindi praticamente, eh, non mi interessa se uno mi attacca perché sono invulnerabile, eccetera, ripeto, è un'eccezione e è molto rara, però lasciate stare queste cose qua che tanto non servono a niente, secondo me, cioè al fine pratico, invece un'altra eccezione, allora praticamente, eh, eccezioni a livello pratico, allora mettiamo che questa qui è la stanza, no, mettiamo che, in realtà, allora qui ci sia la via di fuga, o qua o qua, adesso per per farti l'esempio, no, sei in un pub, mettiamo con un ragazzo, una ragazza, dipende dal tuo sesso, dalle tue, insomma, aspirazioni, eccetera, eccetera, questi qua sono i tavoli, tu entri con l'altra persona, allora come devi comportarti? Eh, allora in pratica, eh, quali sono le posizioni più dominanti di tutte? Allora, la posizione più dominante in pratica è questa qua, perché da qui tu controlli, no, spalle coperte, ovviamente, e controlli tutta la stanza e la via di fuga, sì, puoi farlo anche da qua, però qua se tu guardi dritto, capito, la tua visione è questa, ok, e devi girarti per controllarla, invece qua se tu ti metti un pochino angolato, no, ti metti con i piedi, cioè così mettiamo, adesso sono un po' lunghi sti piedi, proprio per farti capire, controlli tutto, anche da qua controlli tutto, però sei un pochino, capito, cioè da qui controlli un po' più che da qua, insomma, facci caso, quindi posizione più dominante è questa, la numero 1, praticamente la numero 2 è questa, poi la numero 3 è questa, numero 4, poi c'è, mettiamo così la numero 5, perché controlli, questo è di spalle, questo è di spalle, questo è metà di spalle, questo è la numero 6, ecco, numero 7 sarebbe questo, ecco, quindi come tu ti posizioni denota automaticamente il tuo livello di valore sociale, sono cose percepite dagli altri e quindi tendono a farti dare una percezione, che poi questo denota anche il livello di persuasione, di credibilità, di alphaness, di quanto sei seduttivo, interessante, abile socialmente, eccetera, che gli altri ti riconoscono, per questo che è strong e è importante conoscere queste cose qui, quindi questo va bene, rientra nella teoria che ti ho dato e l'eccezione qual è? Che se magari tu entri, ad esempio sei un ragazzo e entra con una ragazza, andrà allora perché vuoi fare il figo a posizionarsi qui, oppure a posizionarsi qui, ammesso che siano liberi posti, però magari ovviamente se i tavoli sono incentrati in una situazione in cui siamo uno di fronte all'altro, quindi metterai la ragazza qui e la ragazza qui magari si sente a disagio perché ha le palle, le palle, l'apsus va bene, perché a me piacciono le donne quelle forti con le palle, vabbè le palle psicologiche non fisiche ovviamente, quindi metti la donna qua e alle spalle scoperte perché non controlla la via di fuga e qua potrebbe avvenire roba che lei non controlla perché lei ha una visione periferica così, insomma una roba simile, salvo avere cose strane e quindi magari si potrebbe sentire a disagio, si potrebbe sentire un po' prevaricata, un po' pressata, anche se la metti qua o peggio se la metti qua perché avvicina la via di fuga probabilmente e quindi si sente, si vede sempre gente scorrazzare qua intorno, quindi potresti fare delle eccezioni, magari potresti metterti, ti faccio un esempio, potresti metterti qui e far mettere lei qua che fondamentalmente girando un po' la testa può controllare la maggior parte della stanza e la via di fuga oppure ti metti, cioè se riesci ti metti qui e magari fai mettere lei qui e hai il posto di dominanza però magari in questo modo, anche tu hai un posto di dominanza che è il numero 3 di tutta la stanza però in questo modo lei si sente magari abbastanza a suo agio, oppure se è una, parlo anche per i maschi, insomma voi siete donne, è la stessa cosa, se l'altra persona è molto cazzuta, molto forte, vedete che è molto un po' prevaricante, allora voi potete metterla in una situazione di dominanza perché in questo modo calibrate soltanto, ecco perché queste cose qui sono importanti e in questo modo andrete a calibrare semplicemente scegliendo il posto in cui siete seduti e vi assicuro che se entrate in un pub e voi state belli tranquilli tra due angoli con le spalle coperte e controllate tutto e lei sta lì in mezzo che dietro alla gente che scorrazza e vede soltanto voi e il muro, lei l'altra persona intendo maschio o femmina vi assicuro che fa il suo vero impatto psicologico e quindi vi dà punti e abbassa eventuali situazioni di strafottenza e roba simile e questo parlo anche a livello di quando andate ad una scena di lavoro, quando andate ad una scena con dei clienti, con degli amici, dei familiari, magari c'è il familiare, magari una scena, una reunion di famiglia, c'è il familiare che fa sempre il figo, allora voi anticipate tutti, vi mettete nei posti più dominanti se questo è un tavolo lungo e gli altri avranno delle postazioni minori e quindi si sentiranno sbassati un po' psicologicamente che tutto a livello indiretto psicologico e questo vi aiuterà a gestire meglio la situazione, sono cose fondamentalmente importanti perché hanno un grosso impatto, avete visto che a volte dite, non so quella persona mi ha fatto questa impressione, non so perché, sopra e sotto, ecco, questo è uno di quegli elementi, ok? Quindi ci sarebbe tanto altro da dire, però ci farò altri video, magari ve li linkerò qua sotto in descrizione mano a mano oppure in fondo a questo video che ci sono quelle schede in cui cliccate sia da computer che da mobile, però fammi delle domande, scrivemele qua sotto, iscriviti ovviamente al canale per tutti gli aggiornamenti, vedi che stavo pubblicando molti più video, spero che questi contenuti siano pratici e diversi dagli altri, anche se poi ho notato che spesso copiano alcuni mie ragionamenti perché queste cose qui si trovano anche nei vecchi libri di comunicazione non verbale e così, però ti ci mettono due paginette invece vedi che se tu sbobini a livello di testo tutto quello che ti ho detto in questo unico video, tra l'altro anche solo in questo, sarebbe da scrivere un capitolo e mezzo, quindi praticamente questi sono elementi che io ho riportato, poi vedi la bellissima grafica molto un po' cubista, un po' impressionista cubista, sono tutti elementi che ho tirato fuori dalla vita reale, dalla vita, proprio esperienze pratiche, anche facendo delle analisi incrociate, leggendo tante altre cose, va bene. Poi aggiungimi in Facebook perché in Facebook sto caricando tutti gli altri elementi, anche sulla mentalità, sul diventare strong, testi, articoli, eccetera. Poi mettimi un like ovviamente e condividi se questo video ti è piaciuto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao da Alex Sonofri. Adesso devo cancellare in qualche modo, ma questa roba qui, dato che non si cancella, dovrò praticamente fare, c'è anche questo che, insomma questo è chiamato così gesso liquido, ma in realtà, sì, sarà liquido, ma di gesso a poco perché poi non è facile cancellarlo, qui miglioreremo nel tempo la grafica, intanto vi faccio questo spazio, vabbè. Allora, praticamente...